Buongiorno a tutti. 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 la situazione è complicata ora, la città viene solo, però mi stavamo a dire che potrebbero praticamente una cosa e senti che non si senta con lui. Per farmi come una buona notte per il cumpleaio. Grazie mille, grazie mille. Per me ha detto quanti? Si senti due, perchè non ho fatto, si senti due a un periodo, non ho fatto, 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 non ho fatto il 880. Non ho fatto i ho fatto, non ho fatto. Il nostro avivato è un episodio, ma non ho fatto il dirige bene, è un episodio in essere rinforziato, e il nostro avivato è geoste di contribuire l'inforzamento e il pubblico asicurato, non è possibile in alcuna cosa che sta qui, non è possibile una cosa che ci sono come quali perché perché l'euro e il patrio già non abbiamo, non si è proprio il muro che ci raggiungi ne creerà essere un luogo che abbiamo intanto un luogo che non c'è un luogo che è un luogo pensando che non è un dia che la portugheria è un luogo che era un luogo che era un luogo che si ha pensato a lavorare. Ora che intendo colpa lì, per a che si aposene rapidamente, per essere il prossimo anno. L'ultimo anno è in questa cantina, per il Presidente, 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 mentre la mia avia ha un'indicazione che è un'indicazione dove raffredd SM? e ho un'indicazione per la gente, una gente di materiale ipunice perché è un'indicazione a un'indicazione che ha un'indicazione per il Presidente. Ora che ha parlato all'indicazione e che grazie per le persone, ci sono persone che sonoci una certa amore di Gínhia e Fiorino, Fiorino e Fiorino, sono persone con tantissimi alle persone di Campania e dunque la complimenti è sempre un grande carattere e anche sempre le felicitazioni a tutti i turisti, per tutta l'equipe, per il tuo lavoro e le mie che, che bella un 괜찮아 e che pequeno farlo siaーミニ key. Se iniziaron un po' a posto sono tutto il mio, il mio gruppo, che c'era una caratteristica, perché io era torsione, e si non mi guardi alla canta, passano bene. Mi è la mia famiglia, la mia famiglia e la mia famiglia, non mi aveva mai detto tutti. Non mi aveva tutti i ragazzi. E non gli avevano amigli e non mi aveva solo un mio pubblico, perché era io, mi aveva stato in campo nuovo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. e... e... a... e... a... . con una... e... a... 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 ... a... 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 ... a... 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 ... a... 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 e è un desafio per noi continuo mantenendo la misa nuova. Per noi non possiamo guardarla. Per noi è una sorpresa e una satisfaccia perché significa che la fiesta la fiesta sigue presente, la fiesta sigue nombrando sì, sigue siendo la elegida per le persone a ogni punto del paese. Perché vedo che la prima tarjeta che si vendi fu il di San Luis che era un familiare della rioca. Quindi è buono perché significa che la nostra fiesta si è andato in primi i nostri spieghi i nostri spieghi perché i nostri spieghi i nostri spieghi perché non possiamo mai riservare, però è una cosa che è sempre passato la nostra responsabilità. Per noi credo che è stato fatto che la mia nuova, 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 il motivo di che l'ambiente sia cercato e che voglia di poter. La verità è sì. Credo che quando le cose si avvicinano con amore, con il sentimento, non solo per le fieti, ma per i origini, per la località, uno le pone tutto e... E questo la gente lo percebe, che è quello che ci dicono sempre, che invece la gente... tutto quello che si ha fatto fuori l'anno passato fuori l'anno passato questo anno, per il temor a... e questo è una cosa impulsata, e lo sigue impulsando a... per questo sia lo miglore, e... andare per l'alante, è tutta una question di attitudizio. Lo felicito a tutti per questo, per essere una sola maniera, perché tutto qui funziona, la nuova utilità, per il sentimento di professioni, per le sostituizioni, con la compagno della città, perché... non la sentita, no la sentita... ma... mi sono哪裡 che... un punto di ho intorno che ho recebe inter關i... anche a tutti, ho però, perché lo pauvano, e non si... Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 e ci sono stati attraverso i risultati, e la parte del muerto primo le ha contato al principio della parte del muerto primo, e come se ha dato che il muerto si ha dato attacchi in tutte le parti del paese, non c'è il riservo, quindi abbiamo un altro cammino, poi è stato attraverso il tempo e questo anno che ci stanno accompagnando come la lingua lecce l'anno passato. La gran mesina per i segri è la bagna a cauda, per chi ha l'estracco, pastane e bim, gliela bagna a cauda, e se quei cünd, rumpi i chitarin, dai a bagna a cauda, contro ogni magung, il rimedi bu, pul bagna i puru. Scenzi 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 Grazie a tutti. 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 ... Grazie a tutti. ... 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